Maria De Filippi ha indossato un vestito bianco per i funerali di Silvio Berlusconi, attirando l'attenzione dei media. Secondo Giovanni Ciacci, esperto di outfit, la scelta di indossare il bianco potrebbe essere stata fatta per accontentare Berlusconi, che preferiva che le conduttrici si vestissero in bianco e fossero bionde. Ciacci elogia anche Silvia Toffanin per la sua eleganza e sobrietà nei vestiti, notando che raramente indossa fantasie floreali, ma opta per colori solidi.